Sì, sono stati più bravi di noi, sono entrati subito in partita, noi abbiamo subito un po' per demeriti nostri, forse siamo venuti qui e volevamo giocarla troppo e loro erano abbastanza aggressivi, gli abbiamo dato coraggio, poi sono riusciti a sbloccarla su una palla inattiva e niente, è andata in discesa per loro. La partita di questa sera ha detto che ancora una volta il Pescara con le dirette concorrenti in trasferta perde sempre. Anche questa sera avete preso gol sui sviluppi di un calcio d'angolo? Beh, è inutile nascondersi ad un dito, è un dato di fatto, dobbiamo lavorare, è giusto che noi più esperti ci prendiamo tutte le responsabilità di questa situazione perché parte da noi e dobbiamo anche coinvolgere i ragazzi più giovani, quindi dobbiamo lavorare di più. Parliamo di quello che è successo prima della partita, non so se avete saputo degli incidenti, se vuoi mandare un messaggio, se vuoi dire qualcosa. Sì, le notizie sono un po' frammentarie, infatti a fine partita i tifosi ci hanno chiamato e abbiamo saputo questa cosa all'inizio della partita di questo ragazzo che è in codice rosso all'ospedale di Brindisi. Se non sbaglio, noi facciamo gli auguri a nome mio e di tutta la squadra di una pronta guarigione sperando che possa superare brillantemente questa cosa. Sono all'ibito da queste cose che ancora succedono nel calcio. Questo è quello che abbiamo capito, ti ripeto, le notizie sono un po' frammentarie, quindi speriamo che si possa risolvere nel migliore dei modi e lo aspettiamo a tifare per noi. E' anche un po' difficile parlare in questa serata di calcio per quello che è accaduto proprio a Squinzano prima della partita, però in campo, soprattutto nel secondo tempo, si è visto un Pescara remissivo, timoroso. Cosa sta accadendo a questa squadra? Si era detto che la squadra avrebbe dovuto giocare con tranquillità una volta raggiunto un piazzamento in portesca, stante in classifica, e invece anche questa sera si è vista una squadra timorosa. Ma a caldo adesso vorrei pensarci bene, rivederla bene la partita, perché a caldo potrei dirti cose che magari con la mente lucida sono diverse. Dato di fatto è che abbiamo subito a inizio partita, dopo il gol abbiamo continuato a giocare, abbiamo avuto diverse occasioni, e niente, su 2-0 la partita diciamo che si è messa sui binari giusti per loro. Abbiamo cercato di cambiare modulo per dare più ampiezza, ma loro sono una squadra forte e non ci hanno permesso niente. Ultima cosa, ti chiedo al di là del modulo del secondo tempo, dove forse il Pescara ha concesso meno a Lecce, diceva poco fa Alberti da studio della brillantezza che mancava, è una questione mentale secondo te o rispetto all'inizio stagione il Pescara ha finito la benzina? Anche qui non saprei dirti, purtroppo abbiamo avuto diversi infortuni durante questa stagione, molti giocatori si sono allenati poco, hanno dovuto tirare la carretta fino adesso anche in condizioni precarie, anzi li ringraziamo perché si sono sempre messi a disposizione, e niente, ci sta, ci sta che arriva un momento dove possiamo andare in difficoltà, però non è successo niente anche perché abbiamo una partita, grazie a Dio abbiamo una partita da mercoledì, un altro scontro diretto importante e nel calcio si può ribaltare tutto in un secondo. Secondo te scendere in campo tra meno di 72 ore è positivo, cioè subito cercare il riscatto dopo questa sconfitta con Palermo che è un'altra candidata al salto di categoria? Sì sì, secondo me è abbastanza positivo perché hai poco tempo per metabolizzare la sconfitta, quindi devi ricaricare subito le pile e questa voglia di ribaltare la possiamo buttare in campo già mercoledì.